A conclusione della prima giornata facciamo un bilancio con Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat. Il convegno è di eccellenza sicuramente, gli interventi sono stati all'altezza delle nostre aspettative, soprattutto il fatto di aver definito un background paper presentato da Baffiggi al cui hanno collaborato i colleghi dell'Istat, Banca d'Italia e dell'Università di Bologna e anche altri studiosi, ha consentito di avere un quadro macroeconomico di fondo all'interno del quale posizionare le varie analisi che come abbiamo visto sono state di carattere multidisciplinare, hanno affrontato aspetti sia demografici sia economici, quindi diciamo che il bilancio è assolutamente positivo. Qual è la novità di queste tassonomie che ci aiutano a leggere le grandi crisi che hanno influenzato la società italiana? Sì, si, è stata un'operazione scientifica di spessore, nel senso che sui dati ricostruiti della contabilità nazionale, tra l'altro sono stati allineati al SEC 2010, quindi alle stime più recenti, è stato possibile attraverso l'applicazione tecniche econometriche molto avanzate l'identificazione proprio dei cicli, delle fasi cicli, che sono state identificate i 27 cicli economici su tutto il periodo e soprattutto è stato possibile attribuire a ogni fase delle caratteristiche sintetiche molto particolari, quindi questo secondo noi è un elemento che arricchisce l'informazione statistica di base con elementi utili all'interpretazione.